Che cosa vuol dire enoturismo, olioturismo e agriturismo? L'assonanza di queste tre parole dimostrano che il territorio può essere valorizzato con un fattore comune che è il turismo per il quale le imprese agricole possono strutturarsi e rendersi accoglienti al massimo della loro possibilità per diventare se stesse infrastruttura e strumento per la valorizzazione dei prodotti eccellenti delle nostre campagne, dei nostri territori e per la promozione del territorio stesso. Dal 2021 l'attività intorno a questi argomenti è divenuta veramente effervescente in regione perché nell'arco di meno di due anni sono state approvate una legge sull'enoturismo, la 28 del 2021. E' stata aggiornata la legge sull'agriturismo che era la legge 21 del 2011 ed è stata presentata la proposta di legge proprio due mesi fa sull'oleoturismo. Sono tutte sfaccettature che consentono all'impresa agricola di utilizzare al meglio e di ottimizzare le proprie strutture aziendali proprio per la promozione del territorio e dei suoi prodotti tipici. Le leggi naturalmente danno tutte le disposizioni e le discipline per potersi avvicinare a questo tipo di attività che sta crescendo enormemente nella regione Marche ed è proprio per questo che si sta puntando su questo settore. Grazie